15 milioni gli italiani in viaggio per le festività di Pasqua, oggi giornata di grandi spostamenti su strade e autostrade. Per saperne di più ci colleghiamo con Alessandra Canale di Rai Mobilità, a te. Sì Cristina, il traffico intenso sulle strade della nostra regione con le direttrici che da nord conducono le località del sud ma anche verso la Versilia, con tempi di percorrenza superiori alla norma. A tal poprosito monitoriamo il real time, le immagini di giugno in diretta al km 304 dell'autosole, come vedete flussi intensi di traffico e ad ogni modo ci sono delle code proprio in autosole sviluppate per traffico intenso tra Firenze sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Abbiamo una segnalazione di un incidente, oltre al traffico intenso, sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno indicato tra la Strassigna e Firenze-Scandici e a seguito del quale si è sviluppata una coda lunga 3 km verso Firenze. Vi ricordo che è in atto lo stop ai mezzi pesanti per facilitare gli spostamenti che si protrarrà fino alle ore 22 di questa sera. Mi fermo qui, linea a te Cristina e buona Pasqua a tutti voi. Grazie. Grazie.